Visto che è da molto che Dragon's Dogma non si vedeva, comincerei a rispondere a due domande veloci. Che cos'è e devo giocare prima al primo capitolo? Dragon's Dogma 2 è un gioco di ruolo action single player di Capcom. Si crea il proprio personaggio, tra l'altro con un editor ottimo, che vi permette di creare dei personaggi molto somiglianti, si sceglie una classe, nel mio caso maga, e si esplora il mondo affrontando combattimenti e quest. La particolarità di Dragon's Dogma è che si è accompagnati da altri tre compagni gestiti dall'IA, chiamati Pedine. Sì, ne convengo è un brutto nome, ma è così, è la lore. Ogni giocatore ha una pedina principale che si crea nell'editor, io ho creato Raiden. Cioè, ma ci rendiamo conto che io in live ho provato a fare il mio personaggio per tre ore di file e ho fatto una specie di indiano e lei in cinque minuti mi ha fatto uguale. Inizialmente gli ho assegnato la classe guerriero, ma poi ho cambiato in distruttore nel corso del gioco. La pedina principale sale di livello ed è possibile gestire la sua classe e le sue abilità esattamente come quelle del personaggio principale. Le altre due pedine, invece, non sono che pedine principali di altri giocatori. Queste non livellano, ma ci aiutano in battaglia e ci raccontano persino della loro esperienza con i loro padroni. Una pedina, per esempio, mi raccontava che il suo padrone prediligeva dei membri del gruppo donne. E a questo la mia pedina principale, ovvero Raiden, ha risposto giusto così. Ma non solo, se il giocatore padrone di quella pedina ha già fatto una determinata quest nella sua partita, la sua pedina la conosce già e sarà in grado di guidarci facendosi seguire per raggiungere il posto giusto e dando dei suggerimenti. A volte durante l'esplorazione capita che una pedina si ricordi di uno scrigno segreto nei paraggi che aveva già scoperto nel suo mondo e lo indichi a noi. Allo stesso modo, anche la nostra pedina principale imparerà delle cose durante le volte in cui sarà reclutata da altri giocatori e lo dirà chiaramente, nel mio viaggio in un altro mondo ho scoperto che qui vicino c'è una caverna, volete che ve la indichi? La meccanica delle pedine è fantastica e caratterizzava già il primo Dragon's Dogma, ma qui è ancora più evoluta. Rende unico questo gioco di ruolo e lo dota di una dinamicità che apprezzo moltissimo. È molto bello il fatto che le pedine imparino dai loro viaggi, dialogano moltissimo tra loro, fornendo informazioni ma anche enlargendo delle opinioni sulla base della loro personalità, così da rendere il viaggio sempre interessante. Ricordo che il gioco non è doppiato in italiano, solamente in inglese e in giapponese, ci sono i sottotitoli in italiano, quindi se non volete perdervi nessuna informazione e non conoscete bene l'inglese, dovrete fermarvi ogni tanto per leggere. Molto curata anche l'interazione con le pedine, interazione che le umanizza molto, come per esempio festeggiare insieme a loro battendo il 5 dopo una battaglia, o il fatto che vi afferrino al volo se cadete da un dirupo. Anche se non sempre, quindi state attenti. Ma quanto sono intelligenti queste pedine? Diciamo che sono intelligenti ma non si applicano. Per quanto si muovano molto bene in battaglia, correndo a curarsi quando è il caso e riuscendo a spostarsi senza incastrarsi frequentemente, purtroppo capita anche che si incastrino malamente, che attacchino in vano da posizioni totalmente sbagliate, o che si lancino direttamente nel vuoto. Se una pedina muore e viene persa, potrete riprenderla in futuro se vorrete. La vostra pedina principale può essere recuperata subito, ma porterà per sempre su di sé una cicatrice. Cicatrice che quindi segnalerà agli altri giocatori che almeno una volta siete stati delle pippe, quindi occhio a come vestite la vostra pedina. La mia era distruttore ed era vestita così, quindi niente è andata. Il gioco offre 10 classi, 4 iniziali e altre 6 da sbloccare. Ogni classe ha uno specifico equipaggiamento e una serie di abilità attive e passive, ed è possibile cambiare classe liberamente durante il corso del gioco presso le gilde. Io ho usato per la maggior parte del tempo la classe mago, che attacca dalla distanza e possiede l'utilissima abilità di curare i compagni. Se scegliete un'altra classe, suggerisco di tenere sempre nel gruppo una pedina mago, che tende ad usare adeguatamente le cure in autonomia. Le classi sono indipendenti, anche se raggiungete il massimo rango di mago, per esempio, non vi fornirà bonus particolari passando ad una classe diversa. Sarebbe stato bello un sistema di multiclassi, che avrebbe reso questo sistema più vario e dinamico. Trovo peraltro che si raggiunga il rango massimo di una classe un po' troppo velocemente, sbloccandone il massimo potenziale ben prima di raggiungere la fine del gioco. In ogni caso le classi sono molto ben bilanciate, il sistema di combattimento divertente e spettacolare, specialmente contro i nemici colossali. Questi hanno un pattern variegato, interagiscono dinamicamente con l'ambiente, arrampicandosi sulle pareti o raccogliendo e lanciando massi. Per esempio scagliare una magia di ghiaccio può essere un'arma a doppio taglio, i nemici possono raccogliere i blocchi di ghiaccio rimasti per usarli contro di noi. È anche possibile saltare ed arrampicarsi su un nemico, farlo da maghi non ha molto senso ovviamente, ma classi come il guerriero e il distruttore possono raggiungere i punti deboli e colpirli con maggiore facilità. A lungo andare però anche questi incontri, per quanto galvanizzanti, vengono a noia. Il gioco non ha una grandissima varietà di mob e all'ennesimo troll è plausibile che cercherete di passare oltre. I boss unici però sono il vero fiore all'occhiello. Ce ne sono diversi, obbligatori e secondari, ognuno con punti deboli, pattern e arene uniche per scontri lunghi e spettacolari. Il feedback dei colpi è molto buono, persino quello delle magie, grazie anche all'ausilio della vibrazione del controller ed effetti audio e video che ne sottolineano l'impatto. Non aspettatevi un gioco dall'alta difficoltà. Come il primo Dragos Dogma è più facile cadere da un'altura che per mano di un nemico. Paradossalmente si è decisamente più in difficoltà durante una normale esplorazione che contro i boss, poiché il gioco tende a compensare la bassa difficoltà con un numero di encounter soverchiante. L'esplorazione non è mai un'esperienza rilassata, anzi piuttosto in alcune circostanze la definirei frustrante, poiché il mondo è disseminato da una quantità di nemici eccessiva, specie di notte. Ecco, la notte è veramente un incubo, tantissimi nemici e un buio molto fitto da scongiurare con l'uso di una lanterna, ma un incubo in senso positivo, perché sarete spinti a cercare degli accampamenti per far sopraggiungere il mattino, aggiungendo un elemento di sfida importante in un gioco in cui non c'è il viaggio rapido. Sì, avete capito bene, non c'è il viaggio rapido e dovrete mettere un piedino davanti a un altro per raggiungere i vari luoghi, e il gioco non è neanche timido a proporre backtracking. Specifico, un modo per viaggiare rapidamente c'è, bisogna essere in possesso di preziose e costose pietre del teletrasporto, e si può viaggiare solo verso i pochissimi luoghi dotati di cristalli, cosa che si ha modo di fare più frequentemente solo nelle fasi finali. Questo è un elemento di design che comprendo e che funziona in Dragos Dogma, quello che non comprendo e che non funziona è un altro, il sistema di salvataggio. Potrebbe sembrare un aspetto irrilevante, ma in realtà ha impattato molto negativamente sulla mia esperienza di gioco. Spiego. Nel gioco è apparentemente possibile salvare in qualsiasi momento, ma la verità è che il gioco salva davvero solo quando si va in locanda a dormire. Locanda che specie all'inizio è costosissima rispetto alle normali possibilità economiche. Per intenderci, all'inizio del gioco se avete 10.000 monete siete praticamente ricchi, e una notte in una locanda costa 2.000 monete. Praticamente simulazione di studente a Milano. Il gioco non spiega benissimo questo aspetto, quindi dopo una morte ho scelto malauguratamente di caricare l'ultimo checkpoint invece che l'ultimo salvataggio. A casa mia checkpoint sarebbe semplicemente un luogo sicuro, un punto intermedio della missione in corso. Invece il gioco intende l'ultima volta che avete dormito in una costosissima locanda. Risultato? Ho perso 8 ore di gioco. 8! 8, ho capito. Infatti non è stato più neanche possibile recuperare il salvataggio manuale che avevo fatto perché è stato immediatamente sovrascritto. E vabbè Midna ma qui hai sbagliato tu, va bene il gioco lo spiega male, ma tu perché non hai dormito nella locanda? Va bene passiamo sopra questo, ma il salvataggio singolo è comunque un grosso problema nel caso di bug che invalidano la quest principale. E mi è capitato anche questo. Inoltre è incomprensibile la scelta di impedire di creare più personaggi, cioè se voi volete creare un nuovo personaggio e ricominciare una partita, dovete cancellare il vostro salvataggio e il personaggio che avete già. Per non parlare dell'endgame che inasprisce ulteriormente la funzionalità di questo salvataggio, ma non ve lo spoilero. Insomma è come se avessero voluto aggiungere delle funzionalità hardcore in un gioco che hardcore non è e l'hanno fatto nel modo peggiore possibile, ovvero rendendo precario il salvataggio. Ma torniamo alle cose belle. L'esplorazione per quanto funestata da combattimenti eccessivamente frequenti è comunque una continua sorpresa. Ci sono davvero tantissimi segreti e luoghi da scoprire e il fatto di imparare molti di questi dalle pedine, cioè da esperienze compiute da altri giocatori, è veramente un'esperienza a 100% Dragos Dogma. Il design degli ambienti è vario anche con una minima verticalità e con l'ausilio delle pedine frequente scovare scorciatoie e anfratti nascosti. Anche le città, per quanto poche, sono ben strutturate e vive, con molti NPC con cui interagire, la possibilità di entrare in ogni casa, ed è rarissimo non trovarci dentro almeno un oggetto da raccogliere. E diverse quest secondarie, utilissime non tanto per livellare, visto che come detto non è così necessario, ma per fare soldi. Ho già detto quanto costa dormire in una locanda per salvare davvero. A parte tutte le ore perse per via dei salvataggi, una run completa con diverse secondarie è durata poco più di 30 ore, ma il gioco ovviamente offre più contenuti, per lo più derivanti dall'esplorazione dei boss secondari, anche se i giocatori più esperti potrebbero esaurire tutto il fattibile in circa 50 ore. Tendo ad essere molto cauta a valutare un gioco per il numero di ore, anche perché questa è una cosa molto soggettiva. Io per esempio tendo ad essere molto veloce, non perché sia una pro, e tra l'altro non schippo assolutamente nulla. Quindi in generale promuovo la longevità di Dragon's Dogma 2, ma tiepidamente, perché l'impossibilità di creare più personaggi secondo me grava molto sulla durata del gioco nel tempo. Ma Midna, perché non parli della storia di Dragon's Dogma 2? Dragon's Dogma non è un gioco molto story-driven. Non aspettatevi un The Witcher per intenderci. I dialoghi sono per lo più passivi e non è possibile compiere scelte particolari. La narrazione è più che altro al servizio del gameplay, il fatto che esistano le pedine e che la Risen, ovvero il protagonista, abbia il potere di evocarle. Ovviamente è fondamentale il legame della Risen con i draghi e non mancano anche scene di impatto e personaggi interessanti, ma non aspettatevi una storia epocale o ville immemorabili, perché Dragon's Dogma non punta su questo. La trama ha un forte impatto sul mondo, sulla Risen e i suoi personaggi, ma più come motore di una serie di eventi che spingono il giocatore ad affrontare nuove sfide e luoghi sconosciuti, con anche abbondante pectracking. Non si tratta di un giudizio quindi negativo sulla trama. Ripeto, ci sono momenti di impatto ed è gestito molto bene il ruolo della Risen come elemento sempre centrale degli eventi. Semplicemente chiarisco che non si tratta di un aspetto fondamentale dell'esperienza di Dragon's Dogma. Per la serie compro Dragon's Dogma 2 per la trama, per le scelte da... No, non comprate Dragon's Dogma 2 per questo e qui rispondo anche alla domanda che ho fatto in apertura, non dovete aver giocato al primo capitolo per capire il gioco. Anche perché conta su una storia basata sui cicli, che quindi giustifica sempre un nuovo inizio. Ho sentito diversi pareri negativi sull'aspetto tecnico di Dragon's Dogma 2, tra cui l'Evergreen sembra un gioco PS3. Ma che PS3 avevate voi? La verità è che il mondo di Dragon's Dogma 2 è vivo e ricchissimo di elementi animati e non, tra nemici ed NPC con delle routine comportamentali, per quanto basilari. Ambienti complessi e curati, un buon uso della luce e dell'oscurità, che contribuisce all'immersività in luoghi tenebrosi o in penombra. Però, di sicuro non parliamo di un alto dettaglio grafico. L'aspetto generale del gioco è sporco, forse in gran parte volutamente per via del suo aspetto fantasy di stampo più realistico, ma certamente ciò che fa storcere più il naso è il framerate. Ho giocato su PS5, che offre solo la possibilità di giocare a 30 fps, a fronte di un aspetto tecnico non di altissimo livello. Il fatto è che magari fossero 30 fps. Il gioco non lesina in grandi effetti spettacolari durante i combattimenti, specie quando intervengono un gran numero di nemici e magia ad ampio raggio. Insomma, a volte si genera una confusione su schermo che porta il framerate a scendere e causare qualche scatto. La mia valutazione tiene quindi conto della versione console. Probabilmente spero che la versione PC sia migliore, e che possa offrire un'esperienza di gioco migliore dal punto di vista tecnico. Discreto il comparto audio tra effetti e doppiaggio in inglese, è disponibile anche quello giapponese, ma non l'italiano. Buon accompagnamento musicale di sottofondo, non memorabile per la maggior parte del tempo, ma con dei picchi altissimi nei momenti più spettacolari, specialmente durante le boss fight. Mi aspettavo per Dragon's Dogma 2 una netta evoluzione di Dragon's Dogma 1, e invece ci troviamo di fronte sostanzialmente a un gioco di qualità simile al primo capitolo, con elementi che si possono trovare solo in questo gioco, un sacco di buone idee che lo rendono un gioco di ruolo action unico da giocare assolutamente se si ama il genere, ma allo stesso tempo con una natura grezza ed elementi di design figli di un'ottusità inspiegabile. Il mio timore è che vogliano ancora una volta affidarsi alle espansioni per migliorare il tutto, ed è un peccato, perché comunque parliamo di un gioco che ha un grandissimo potenziale, potrebbe diventare davvero il gioco di ruolo fantasy epico giapponese, e non giapponese, ma di Capcom, con questi scontri colossali e questo sistema di pedine che mi fa impazzire. Mi raccomando, non soffermatevi solo su tutti i difetti che ho annoverato, perché sono problemi particolari di cui si doveva discutere. Parliamo comunque di un gioco che potrebbe diventare sicuramente un cult, come lo è stato il primo capitolo. Per intenderci, parliamo di un gioco che poteva prendere tranquillamente anche 9, se non avesse avuto ciò di cui ho parlato in questa recensione. Io vi ringrazio di cuore e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.